La gente ama le favole. Sei pronta? Certo. E lei? Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Allora ho urlato, Jack. Jack, riesci a sentirmi? Jack, ti amo, Jack. Un popolo ha bisogno della sua storia. Ha bisogno di sapere che persone reali hanno davvero vissuto qui. Ho imparato che c'è una grande differenza tra ciò che la gente pensa e ciò che io so essere vero. Come vorrebbe che fosse ricordato. Dovevano esserci più cavalli, più soldati. Perché fa così, signora Kennedy? Più lacrime, più fotografi. Ci fanno sembrare dei barbari. Che problema hai? Non è tenuto a farlo. Io accompagnerò Jack. Da sola, se necessario. Non sono più la First Lady ormai. Non saprei più distinguere la verità dalla finzione. Immagino che non mi lascerà scrivere niente di tutto questo. No. Perché io non l'ho mai detto. No. 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 Ok. Grazie a tutti.